Le note del Festival Gallo d'Oro tornano a risuonare per la cinquantesima volta. Un'edizione quanto mai speciale per il premio musicale più longevo del territorio che celebrerà questo anniversario a Cifratonda con quattro serate da giovedì 28 a domenica 30 luglio in piazza Cavour di Gallo di Petriano. Grazie all'impegno dei numerosi volontari della Proloco e la collaborazione del Comune sono state apparecchiate quattro serate con inizio alle 21 e 15 che ripercorreranno la storia della manifestazione nata nel 1966. L'apertura di giovedì 28 luglio sarà proprio dedicata alla tradizione del Festival. Sul palco si susseguiranno gli storici presentatori e cantanti che parteciparono ai vari decenni del Gallo d'Oro e torneranno ad esibirsi e a raccontare aneddoti arricchiti dagli sketch del barzellettiere Bicio. La seconda serata di venerdì 29 luglio sarà l'insegna della comicità con gli esilaranti Alivernini, Scintilla e Vasumi in una serata all'insegna dell'Allegria. Sabato 30 sarà la serata vera e propria dedicata al Festival e concorso Gallo d'Oro e sarà presentata dalla nostra direttrice di Rossini TV Emanuela Rossi che da diversi anni è alla guida della conduzione con il supporto degli speaker radiofonici Andrea Catavolo e Ugo Palmisano. I cantanti che sono stati selezionati a inizio estate si esibiranno con brani editi e inediti per conquistare l'ambito e storico trofeo del Gallo d'Oro. A decretare i vincitori sarà una giuria di qualità presieduta dal maestro Luca Pitteri insieme alla cantante Frida Neri e al maestro Stefano Venturi. I festeggiamenti per questo storico compleanno si concluderanno con la serata di gala di domenica 31 luglio. Rossini TV riprenderà i momenti salienti del cinquantesimo festival realizzando due speciali che potrete vedere sul canale 80 martedì 2 e giovedì 4 agosto alle ore 21.20.